La giustizia a varie facce, una di queste è sicuramente la giustizia fiscale. La giustizia fiscale è fondamentale, perché oggi in un Stato moderno la ridistribuzione di ricchezza che lo Stato effetto attraverso la leva fiscale è sostanzialmente l'arma maggiore che governa l'economia in Paese. È credibile uno Stato che ti chiede di pagare giustamente le tasse e poi però si esime tranquillamente di pagare i debiti che ha contratto come pubblica amministrazione verso chi gli ha fornito i servizi? Credo che questa sia una domanda retorica. Però si ha detto da un magistrato che uno Stato non è credibile e assume una forza maggiore rispetto a che lo dica un osservatore come me. Comunque mi pare che la risposta sia sì. Con profondo dolore penso che ci sia un problema di eticità dello Stato che è stato sottovalutato in questi decenni.